We are there. Tutti skinnati, bene, bene, mi piace, mi piace. Loro partono in svantaggio perché il top non è skinnato. Non hanno la skin, la percentuale di danno. Ah, Kaisa fa con una nuova build, con l'Ale of Blades. Comunque mi confermate che il loro Polo Novello è il top laner, giusto? Sì, Polo Novello è il top laner, mega. Buon lipo, buon lipo è il mid laner. Che penso sia quello un attimino più, tra virgolette, allo basso, diciamo. Entrambi, sia top laner e mid, sia quelli più bassi. Insieme a Wukong, giusto? Esatto, sì. Ma Wukong sono i gold. Gli altri sono tutti diamond. Ecco, è una bella pinnacu. Fortuna che non l'ha preso con Dark Harvest. Infatti quel Conqueror è strano. No, no, si può fare, si fa con... No, lui lo gioca spesso col Conqueror. Con la cosa, è molto più DPS, con Nusher Tut, che picchia e continua, quindi devi bastarlo. Non lo build a lui. Ti ho detto, quella volta che l'ha piccato con me col Conqueror non l'ha mai buildato il Nusher. Ah, no? Perché di solito si fa così. Io c'è un one trick che lo gioca. Eh, immagino sia meglio. È che alla fine tra CDR bassi, tra cooldown bassi e robe, la stacchia abbastanza in fra. Bastante. Q di andata, di ritorno, tattacco, insomma. Allora, partiamo con K7 che va in mid e si fa vedere in mid. Cioè, ci facciamo vedere normalmente, facciamo il cover classico e poi quando arriva uno e quindici ci cambiamo di posto, capito? Ho bisogno che... Ho bisogno di cover per cazzare la ward a 50, eh. Ok, quindi andate in quattro con Cassadin, tutti insieme a Evelyn che mette la ward. Però dobbiamo stare attenti perché... Oddio, non penso c'è... No, vabbè, la ward qui la voglio mettere a 50. Quindi cosa facciamo, raga? Allora, andate qua a mettere la ward qua, vuoi metterla, no? Io in realtà la volevo mettere al pixel e startare bot, così ho cover su un invade. Va bene. Allora magari Qtix cover al bot. Io vi seguo. Siamo un po' spesati e te, comunque. Ma no, sì, sì, qua, ok. Va bene così. Ci hanno spottato. Già, così, proprio pronte e via. Va bene. Allora, mettiamo questo ward, back, red buff, e poi dopo io... Io faccio finta da top, però poi c'è... Tu vai top con Cassadin, io... Buono, buono, ragazzi, lag, lag, buono, buono, buono. Let's go. Il fatto che ci... Diciamo che vorrei anche a startare questo game, così finiamo. Grazie, eh. Let's go, let's go. Indi, allora, ma tu stai indietrissimo, eh. A questo punto guardalo da me. Ok. Quindi cosa facciamo? Voi due state streamando? Voi due? Io sì, sì, sì. No, Qtix e... Ah no, 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 no. Ok, resume, resume. Ma, metti la ward. Adesso ti instagrabbano e kill. Ah no, ok. Metti la ward, dai. Metto... Chi la mette? Io, 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 io. A posto, adesso possiamo prendere il coso. Può prendere il trinket lei. Vukong resta qui. Dove facciamo il dilupio 6? Possiamo andare bot? Sì. Allora, dobbiamo sempre stare in questo modo. Io metcio Vukong e tu con Kassan invece stai sempre contro Maokai. Bot restiamo come ben deciso prima, ok? Sì, se sarà safe. Aspettiamo. Dovrebbero giocare teoricamente in Bot. Però potrebbero provare anche il Kassan in early game, magari, prima che fai il 6. Poi dopo il 6 è praticamente impossibile che ti canchino. Ok, sembra che stia andando in qua. Buono, perfetto. Mi concedi questo ballo? Un passo veloce però, dai. Un passettino di tango veloce. Non te l'aspettavo. A bollee! Metto gli occhiali perché sennò... Mi si fondano gli occhi. Ecco, sta stato top, sembra, ed è good per me. Molto good per me. Qua sta già portando un botto di pressure, quindi rispettiamo per bene. Non abbiamo fretta di niente noi, eh. Ok, ok. Ma ecco, ha già giocato bello aggressivo. Ha stato top, 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 sembra. Sì, sì, sì. Perché Maokai è arrivato molto più tardi della bot lane, quindi... Stiamo solo attenti che ci dai. Ah, non si è via, bro. Non si è via il pullino. Mi sa la botta? Ma penso siano nascosti, spero. Andate a wardare. Che cazzo sono andate a fare? Eh, faranno probabilmente multi-bait così, magari. Che cercano di far più. Ah, proprio così il tribulo, proprio? Ho pure visto che vogliono sapusciare, magari wardano. No, mai pensavo si giocasse un po' più chill, un po' più in amicizia. C'è questa gente che fa così, poi c'è il team con Omi, Vincenzo e... Sì, sì. St'altro, cioè. Vabbè, scrivo, bro lane. Da un capo all'altro. Finita la furtia dopo... E' andato probabilmente a wardare lo scattole. Potrebbe anche venire qui e si potrebbero scambiare, però va benissimo. Aspettiamo un po' a metterla, che tanto... Ok, ok. Sento puzza di ecco prolly qui. Sì, è possibile. Può essere. Dovrebbe essere botte, ecco. Le faste cose, le faste cose. Stai verso questo lato che è proprio lo scattole. Conosco, ci ho giocato insieme. Dove mi faccio grabare? Io sto attento qui. Eh, ovviamente frizza una merda. Sì, ma è normale. Cioè, questo punta... Sì, va, ci mancherebbe. Possiamo fare qualcosa su Mokai? È più scaling. Tu considerate sul farming, perché tanto deve solo scalare. Eccolo qua. Flashata. Buono, buono, perfetto. Flashata, flashata pulita. Ah, che è nitato? Se sei troppo lato, poi probabilmente proverai un altro gank. Ma ho la puzza, la puzza. Proverai di nuovo un altro gank, subito dopo. Sì, 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 sono sicuro che lo farà. Buono, 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 buono. Ho un campo in più da lui. 24, ho preso anche la scatto al top, lui. Bot, cioè. Ottimo, non perdo neanche il carretto. Ce la fai a pigliarlo? Eh, sì, sì. Sì, sì, ce la fai, ce la fai. Pulito. Non perdo anche queste reti. Eh, guarda che anche lei ha dovuto pozzare. Attenti, ecco, bot. Potrebbe anche provare un dive da qui. Ti singaggiamo con calma. Ape non ha tirato due grab interessanti per ora. Lo vedo sotto tono. Meglio così. Vi do vision. Grazie. Ok. Guardo il deck. Nice. Ma probabilmente è andato back, ma non è andato back. Ok. Lo scattole, lo scattole è scaduto. Ok. Ok, si è swappato, io vado back. Si sono swappato. Ok, no, tipo tu qua? Sì, sì, sì. No, no, quello è Wukong. Adesso io vado back e tipo top, tu puoi andare back. E camminare in midland, senza problema. Se c'è bisogno di andare back, eh? Se c'è bisogno di andare back, non è che devi... Sì, ho 1100. A posto. Io aspetto 100 di gold che ho la BF, poi vado back. Va bene, va bene. Qua probabilmente si riswappano loro. Pusci quella wave e ci riswappiamo. Continuiamo così, adesso. Penso stia resettando anche la botta. È una war of fortitude. A chi c'è il cazzo più duro? A chi si swappa più forte. Siamo sendi perché potrebbe anche essere un beat. Ho chi l'ha indurito più durante il tempo. Ok, prendi quel cannone e ci swappiamo. Perfetto. Ok, reserchiamo. Loro stanno perdendo minion così, eh? E expert. Perché le wave sono bad mentre loro swappano. Mentre sono good per noi. Te l'ho frizzata una volta dopo e una volta miss. Stanno andando molto bene, botta. Ottimo, ottimo, ottimo. Marelli game. Buono, buono. Occhio che è che insisterà adesso. E stanno tentando di ingaggiare un botto, eh? Quindi... Io devo recollare e bad per lo scattole, però è troppo rischioso andare a prenderlo. Ok. Oh, ecco. E quelli, ecco lì, gioco vado allo scattole, e good questo scattole, eh? Ok. Probabilmente faccio il 6. Sono da riconosciuto. È loro. È loro. È loro. No, 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 no. È loro, gli lasciamo il drake. E lo invado top. Ma aveva 100 HP, eh? Eh, ma avrei preso la piantina, ma scusa. Poi è rischioso. Loro vogliono fai dare in bot. Grazie, ha super palla. Safe in bot perché sto prendendo il blu. Sì, sì, vai tranquillo. Adattendi, ragazzi, missano comunque. Sì, missano anche la bot, missano anche la bot. Car, fu un mid. Dubbio, però, diciamo. Madò, ce l'ho messo due, graffato, cazzo. Anche a costo di perdere un minio, un mid, non possiamo. Ok. Iniziate ad andare su Mauver, vediamo se riusciamo a bruciargli il flash o qualcosa. Ok, che tanki, mo' cara, eh? Ecco, ho recollato. Eh, no, 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 avevi la wave, non si è stata da... Sì, perdeva un sacco di video. Noi non dobbiamo cancare. Cioè, solo se è free, ma non ci serve forzare. Ah, se è senza mana, comunque. C'è basta che cassa in scali e poi fa tutto da solo perché c'hanno un sacco di danno qui loro. Lo sai, eh? Quando fai livello 6 sono un po' più... ...di turno. Allora, raga, io... Vorrei prendere anche la jungle top, così faccio un recollo e sono super good. Ok. Quindi se è riuscito a stare safe la partita così... Ma le volte penso di aver recollato, eh? Sono sicuro al 90%. Kai's era senza mana. Usciamo? Vai, pushiamo. No, vabbè, siamo troppo... Ok. E' ward? Ok. Te la metto io ce n'ho, metto io ce n'ho. Ok, arriviamo questo. Prendi tu, prendi tu. Ok. Not bad, not bad. Hanno swapato Mao bot. Ok, Mao è bot. Ok, ce n'ho... Queste swappate pure voi. Intanto... Pushiamo e swappiamo? Sì. Io mi dirigo... Esatto. Ma recollando o camminando a piedi? Recolli e poi... Intanto io vado top e voi andate mid magari. E poi ci swappiamo. Tanto... Staslo pushando la wave top. Arriva... Tipo si ferma... Forse ci blocca Mao, eh? No, non ci blocca, c'è paura. Ok. Vado a piazzare una... Una ward all'herald. La botta ne sta andando all'herald. Sì, è preso. Ok. On my way top. Ok. Possiamo provare un fight in top volendo entrare. Loro non si aspettano magari. Arrivo, arrivo, arrivo. Ok, ci fai secco nella giungla. Esatto. Stiamo arrivando top. Infatti sto facendo il giro da qua su. Sì, possiamo andarci. Vai, vai, vai. Manca Maokai. Ah, il flash up, il flash up, Nauti. Flessata? Ok, not. Prendetelo. Bella punch. Ok. Io vado mid ora. Voi potete... Not bad. Nauti ancora flash up. Ecco, ecco, stava da questa parte. Intorno ai win. Comunque intorno ai miei minuti. Ecco, è qui spottato. Ok. Kais è ancora in lane. Kais penso ti va risentando adesso. Stiamo qui. Kav il shadow, ecco. Ci sono, ci sono, ci sono. Sto arrivando. Vediamo cosa che sta qua. Ecco, scusate. Un mid pushiamo. Un V cong ha flashato. Un V cong ha flashato. Allora, qui Kais. Questa che fa qua? Diciamo a fare un plate. I trade li vingo io. Ci potrebbe essere ancora... Per quel carretto. Sì, sì, sì. Per quel carretto vediamo, vediamo. Tento l'engage. Niente, niente, va bene, va bene, va bene. Siamo gucci, bro, siamo gucci. Vado back io. Come abbiamo detto, rispettiamoli, ma non cagiamoci addosso, ovviamente. Yeah, yeah, yeah. What qua? Adesso inizio a romare, ragazzi. Adesso vado back. C'ho roba. Io 40 secondi all'accordo. Inizio a romare verso la top lane e fa ste cose. Ragazzi, noi andiamo a bot back. Continuiamo top o swappiamo di nuovo? Matchate la loro bot lane. Ok, ok. Pusciamo un'altra wave. Manca, ma ok, ragazzi. Mi sa anche la bot lane, ma penso... Ok, potrebbero essersi riswappati per il drake. Pusha velocemente sta wave con Kassain e poi ci riswappiamo noi. Andate back velocemente voi in bot. Cioè voi in top, esatto. Voi bot in top. Vai back con Kassain e ritorni top. Adesso loro andranno al drake. Perché questo drake direi contestarlo e focussiamo... Dire. Focussiamo cosa, Kassain. Sì, sì, sì. Io ho risetto, ho il jungle item, ho una pink, sono pronti per il drake. Tutti pronti per il drake. Io lo rovo. Occhio perché la bot nevermind. Esatto, sono qui, bene. Mi sa che questo swap... Con il loro swap hanno perso un pochettino le speranze. No, hanno preso l'era, comunque hanno preso delle cose. Noi abbiamo fatto quella cosa buona, però abbiamo fatto quel pick molto buono che ha chiamato con Rakan. Quindi l'abbiamo preparato. Eh, non era niente male. Andate, dove andate? Andate, prima la push, prima il push della wave, poi si va a... Poi, 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 poi... Rakan. Rakan, dov'hai? Bot, bot. Prima si push e poi... Si fa il rest. C'è un bot. C'è un bot. Possiamo contestare. Herold, herold, bot. Buono. Sto arrivando. C'è anche Wugong indietro. Sto arrivando. Possiamo fai-tare. Su Kaisa, se servo. Ok, niente, niente, a posto. Via, 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 prendete l'herald e ci siamo. Hanno usato il... Due tip hanno usato. Uuuu, madonna. Perfetto. Pusha toffe e aspetta il mio segnale per tippare. Qua vogliamo fai-tare, eh. Prepariamoci a fai-tare. Puoi tippare, puoi tippare. Tipa qui. Con Kassel. Spagliato, cazzo. Arrivo. Buono. Buono, 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 buono. Buono, buono. Fight Kaisa, 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 Kaisa. Ignite. Buono, guys. So fucking good. Let's go. Pushate botte. E andiamo. Let's go. Good job, good job, good job. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia, che fight. Ma che siamo? LCS, ma cos'è? Bella coordinazione. Bravi, bravi, bravi. Bravi, raga. Hanno pure usato l'Eral, qui. Abbiamo preso una marea di roba. Ciao, torre. Pusha, pusha, manetta. Tra poco andiamo back. Grazie. Andiamo questo, dai. Bricciamo a farne un'altra? No, no, via, via. Andate bene. No, no, no. È abbastanza grilli. Va benissimo. Non becchiamo qua, non becchiamo qua. Perdiamo un po' di tempo. Becciamo più qua. Ok. Ok, occhio che adesso potrebbero fai darti in top, Catix. Non sappiamo dove sia. Ok, no, non c'è pericolo, beh. Posisco prendermi un attimino una plate, perché... Eh sì, va bene. Guarda i boots. Ok, ora? Ora aspettiamo i prossimi obiettivi. Cioè, continuiamo qui. L'importante è lasciar scagliare a Castine, perché lui farà una marea di danni. C'è una ward lì che non riesco a togliere. Va bene, aspettiamo, non c'è problema. È una pink. Continuiamo a scalare così, perché scaliamo bene, scaliamo meglio. L'unico loro carry è Kaiser e ci abbiamo i tools per fermarla. Per ucciderla. Ok. C'è lo scatto, qui ci vado. Ok, buono, buono. Continuiamo così, tranquilli, scaling. Dov'è la loro bot lane? Era bot, loro? Qua, qua, qua. Sì, sì. Ok, perfetto. L'importante è che non vadano top in tre, così. Ecco, potrebbe essere top, eh. Non pushare troppo, cassa. No, no, vabbè, siamo così. Stiamo attenti. Eh, tu sei fiddatissimo, però... Eh, io sono 4-0, ma, in senso... Abbiamo anche Eve, comunque, adesso in questione. Ok, c'è. Ward, 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 ward. No, assolutamente, però... Sempre rispettiamo. Se noi continuiamo così, left game, e poi vinciamo hard. Ok. Dobbiamo... Fai data solo per gli obiettivi. Eh, ora che c'è Baron, cosa facciamo? Spocchiamo? Ma aspettiamo, non c'è fretta, non c'è fretta. Ecco, bot side. Il nasce al 5 minuti, ancora. Eh, volevo dire questo. Possiamo provare a forzare bot, proviamo a forzare bot, l'Henry. Arrivo, eh, eh, devo fare il geolungo. Esatto, esatto. Perfetto. Manca mao. Possiamo, vieni qua. Semano un po' cresci... Pare vogliono ingaggiare tra poco anche loro. Possiamo ingaggiare noi? Stiamo pronti, eh, noi? Vanno spottato, vanno spottato, vanno spottato. Non importa. Ammaui. Ok, vai, via, via, vecchiamo, vecchiamo, corriamo. Se c'è lì all'usamelo. No. Ah, non ce l'ho, non ce l'ho. Ragazzi, via, 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 via. Correte via. È fine, è fine, va bene, va bene. Va bene, va bene. Sono tutti vivi. Non siamo morti è importante, hanno usato il flash di Kai'Sa qui? Mi sembra di sì. Penso sì, 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 sì. Flash Kai'Sa è flashato. Eh, sì, ha flashato, starò tempo. Attento. Vabbè, sono morto, è fine, hanno usato il flash pure lui. It's Gucci. Eh, torre top la perdiamo, va bene. Le botte, tu sai. Va bene, va bene, tanto abbiamo già preso per sblood tower. Vogliamo swapparci già, andati in top? E io vado a dare botte, sì. Andati in top con la bot lane e cerchiamo i trend. Tu, esatto, fai questi campi e poi vai verso la top side con Emily. E Cassian si sposta verso la mid lane. Nauti mi ha istruttato, devo ultarvi la sua ulti. Va bene, va bene. Non è un problema, non abbiamo perso praticamente nulla, abbiamo dato qualcosina, ma abbiamo preso le summoner che è la cosa più importante per i fight. Allora, le abbiamo pingate? Sì, ok, perfetto. A 20, fino a 20, 20 e 40. Kai'Sa è Nautilus. Adesso, l'obiettivo è Cassian push a mid, top push a mid e andate a farvi l'herald. Io sono pronto per tippare. Bugong non ha neanche flash. Guarda, qui c'è qualcuno, è notato questo. C'è Nautilus. È Nautilus. Ok, c'è Nautilus. Ok. E la vogliono togliere, la voldo, ah no, adesso. No, no, vieni, aspetta, aspetta. Mi faccio l'executioner, abbastanza irli, o posso tardarlo? Eh, puoi tardarlo, però se c'hai soldi precisi non ti puoi fare altro, è buono. Ok. Aspettiamo che tu c'è, c'è Mao, c'è Mao, c'è Mao, tra il 3 top. 3 top. 3 top. 3 top. 3 top. 3 top. Probabilmente proveranno il dive con Mao, no, never mind. Qui è guardato. Adesso sarò molto focussato io nei prossimi... Stanno facendo, stanno facendo l'herald. Siamo contestare, posso tippare, sì, sì, sì. Non ci siamo, io ho 10 secondi all'ulti. Tipo qua dietro, occhio, aspetta un po' di tempo. Aspettate che arrivi. Stammi, raccostami un po' davanti che... Buono, ok, ci siamo. Prendiamo l'herald. Prendiamo, prendiamo. Ah, l'hanno leftato. Ottimo. Buono, prendiamo l'herald. Andiamo per il drake, andiamo per il drake, bottele sul drake. Andiamo tutti al drake. Sì, 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 sì. Tanto non penso prendano... No, no, è il flash o l'ulti. Buono, qua stiamo fightando. Sono ben mazzonato, ragazzi. Buono, è morto pure Wukong. Va bene, indietreggiamo. Possiamo ancora fightare che hanno usato qui delle ulti parecchie. Vediamo se riesco a fare un pick. Tutti low, ecco, è molto low, è già ultato. Ecco, veramente low, asfacca. Ecco, non può contestare. Naughty, lusso, no, ignite. È già ultato, ecco, pure? Sì, sì, sì. Prendiamo questo, se non può contestare. No, 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 no. Non importa. Forziamo. Tiriamolo fuori, tiriamo fuori. Vieni, tiriamolo fuori, aspettiamo. Va, va, quasi così. ottimo di avere più danni va bene io solitamente faccio la build che rascio seraph quindi ho quel bike ma tranquillo è nato bene cioè abbiamo fatto anche se abbiamo fatto due per uno abbiamo preso gli obiettivi abbiamo preso tutti i creati che ti performa di più quella è molto buono poi adesso tu scalerai molto molto di più con quella bild sei più tanti per prendere il surf distrugge tre minuti alle andiamo bot ok tre minuti perché scada con questa era direi ci vogliamo prendere la top giusto se qui siamo un po sfasati vai cercate di prendere la botte finché la loro botte nel mid poteva pushare botte prendere la torre po rischio deve busciare busciate 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 tanto la loro botte nel mid non possono venire 40 secondi alla ulti non c'è nemmeno buco nel massimo c'è ma ok ecco mi fa o lì c'è mi shot posso si 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 vai bot aspettiamo allora che l'invado potte per prendere le informazioni su buco non abbiamo anche un po che si possono stare il nasce non lo sappiamo ci facciamo venite mente con una botte io vado allora facciamo così potrema mid casta in bobot vabbè che poi si sto pensando anch'io perché ciò presto arrivando mid vogliamo fare qualcosa di quattro no no aspettiamo 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 che casse in cia dei suoi due item e poi un minuto e mezzo alle al jazz raganne se poi mette una border qui più tardi posto occhio a moccato qui sta salendo sta salendo occhio occhio a un pic si è un minuto ok cerchiamo prima di ucciderlo mare a questo poi fai doppia v all'inizio vai fai la doppia v così sai qual è quello vero vai perfetto ora possiamo miss a la volta miss a la botte mi saranno vengono top è andata da dietro torre non sappiamo vabbè anche se muoio è fine voi continuate a pushar mid se vengono top c'è ecco qui attento a non camminare nella giungla panci bene bene pushate mid prendete un paio di torre mid ok se non ce la fate fa niente va bene così abbiamo preso una torre torre e kill non male direi tra poco due minuti per il drake ok due minuti per il drake faccio full clear dalla top va bene 1 2 3 prendiamo questo ma si buono con l'infinito io vado top c'è però il tp a te quanto ti manca per il saraf su casa in troppo quanti volte ti manca pingalo così mille 3 mille 3 ok va bene allora non potremmo non avremo il saraf il prossimo fatto ma farei comunque danni stai scalando bene i livelli torniamo mid noi mi sono tutti si rimaniamo così in mid giochiamo c'è la solo aspettiamo in cassa e innescali mi sarà b la botte lei non sappiamo dove sia mi sa la botti assi e anche buong ma non ha un occhio pure via manca ecco voto perfetto perfetto bravissimo madonna stanno spiegando tantissimo tempo good 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 io ho la lice ben ok buona una buona cosa immagino è stato un po la mia senza il mio pensiero e questo vala bene fare molto poco diciamo che se faccio una è successa la sciocca ma stasera per quello però bastasse per quella adecchi in un minuto ok se dovete beccare è tardi no no abbiamo beccato abbiamo già beccato siamo proprio pronti per fare io ci sono io ho l'infinity agi chiusa non so posto di cover a mid sto insieme a voi non ci sono no campi quindi non ho la cannes aia cercate di essere un'unità siamo siamo un po spinto troppo eh e quindi può andare nel flank però rakan ex aia dovete sta tu con rakan e ti conviene soprattutto villare comunque c'è ecco top stava qua ma dimmi che cosa mi conviene in 20 secondi non lo so potete cominciare a venire boccando ad essenza ok no prima di pushare a mid si 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 pusha e venite venite sono tutti io l'ho perfetto perfetto ok carretto porco cassa con tre quattini d'occhio ma diciamo secondo me lo bustiamo di brutto sto bravo occhio che potrebbero che ha fatto il drake venite su non usare lo smite a fatto 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 non l'ho stato non lo so venite inizia da camminare cassa di nera per fare il tp cassa e mi raccomando ok hanno rinunciato a posto pushate me perché tipo ok hanno rinunciato è un po rischi pushare mid mi ritrovo tutti in bocca occhio perché arrivano eh eh l'ho visto potrei cercare il flank qui volendo mi vedono eh ok vieni 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 pushate mid no va bene vieni così ormai così vabbiamo già preso povero eh clino clino prendete occhio mid indietreggia che c'è pure coso si 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 vado da lei ok va bene così adesso aspettiamo il saraf su cassa e poi iniziamo a forza di fatto abbiamo pure tre drake ragazzi siamo messi benissimo dobbiamo solo resistere un pochino e poi dopo regà porco dinci facciamo pentire la senale ovviamente sempre scherzando gli segnali di divertimento ciao Twitch ciao Mattia un saluto dall'Italia un pentimento simbolico quanto ti manca al saraf ora? ehm 300 gold posso anche farmarne 100 e vendere questo eh ma non ci abbiamo fretta tanto l'importante è che ci abbiamo per il prossimo drake puntiamo direi puntare al prossimo drake sono buttato quindi non hanno visto cioè non hanno persone di qua ah ma preso vado back fan curve dottrina porza vai 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 back porcaccia perché c'è la mano mune chiusa adesso guarda che si guida il Nashor mi fa metà vita con una W porco dì eh casa tio madonna ok 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 occhio mi sono tutti non sappiamo dove sia un occhio botto restiamo in zona mid presento per una wand vieni qua ti metto a zaga se no me ne dimentico bravo b cover a mid ecco è qui ecco è qui carretto porco ok adesso Cassian può risultare con il Sarah e siamo molto più forti in fight ricordiamoci il nostro focus è Kai'Sa oh il flash se non becco 18cc come ho fatto nelle ultime fight riesco a landail attento attento ho visto i danni che l'ho fatto porca troia la scoppio Xaia occhio perché sono le ultime se vengono da te ok guarda qui guarda qui possiamo fare un fight senza stun li distruggiamo hai la istia tu Richard per recuperare HP un pochino eh no eh devo poccare io di Q ce l'ho da Oran eh vabbè è massato io vabbè c'è la passiva di Rakanki io prendo la vision uh questo eh ottimo vallo tu vallo tu vallo tu vallo tu ecco mid giochiamo per il prossimo trick allora abbiamo deciso a te quanto ti manca per il terzo item Richard? ehm mille e sei ok vabbè non lo facciamo il terzo item attendiamo attendiamo comunque ci basta ci basta Cassian mi hanno spottato eh sanno che sono qui raga io tra un po' il 16 eh quanto ti manca? un attimo siamo io sono al 12 eh ma raga ti hai messo al trattore guttix eh me coglioni se dovete beccare beccate adesso se dovete beccare per comprare degli item no se dovete non è che dovete per forza se non c'avete item niente io ci avrei mezza rapid fire item good allora pusha questa e vabbè vai eh natural se è top side loro vogliono vogliono prendere visione a baron vai tranquilli lasciate voi beccate beccate se dovete beccare perché prendiamo dobbiamociare per questo il natural non se lo possono ancora l'unico attento qua perché se c'hanno vision e ti prendono se lo possono fare dopo sì sì se c'è qualcuno ho la ho il punto esclamativo a vero subito adesso il focus è usciamo la mid lane e poi si prende break si prende il 3 che si sa prende vincere il nasce orzollente a forza cioè anche se c'hanno gai sa stanno indietro possiamo andare a fai dare anche se riescono a finirselo e facciamo dai che in 40 prendiamo adesso restano a prenderci con tutti insieme andrete aspetta se se fanno il campo tanto non era usciamo la prossima d'ora e poi andate al drink cioè la prossima wave scusate yes ok preparate andate non andare solo qui occhio si qui ho guardato non la torna abbiamo in realtà al drink si no nel senso prepariamoci andate 9 secondi drink drink casa fa un botto di danni ma io sono in 3 sono occupati in 3 ok aspettate aspettate perdiamo il tributo e non l'ho saltato occhio siete voi siete voi posizione mi manca l'1% per stanno facendo il drink stanno facendo il drink io non posso difendere se riuscite a darmi vision ok 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 devo riposizionarmi meglio scrivo la ulti di quello là buono 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 così Nashor Nashor corriamo via Nashor ok vai poi glenar pare ce la fai cassa buono vabbè andiamo al Nashor buono 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 l'avete visto qualcuno così lei ha usato secondo me tanto flash di kaiser flash nautilus nautilus pure ha usato pure l'itknight buono questo zonia quando è la jungle top prima di con l'area sì 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 va bene non ci abbiamo detto ok ma ho anche il 6 ok harden sensor perfetto io quessi s sono a posto perfetto io ho zonia questo non blocca l'autilinaticus giusto no lo so lo snare lo fermo io penso di no mi sa che l'autilinaticus è mezzo knock up e mezzo stun proprio penso comunque è forte contro mokay comunque è forte contro mokay sicuro no risad penso di no però è forte con mokay c'è scritto remove all crowd contro il knock up oddio forse dovi pure il knock up non è il clean secondo me si vedremo mi pare si vabbè comunque di solito l'ultilinaticus la doji con la r poi dopo la usi per mokay c'è 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 ovvio io lo chiedo in un chat al massimo call allora 1-3-1 tu avresti vinci contro kassi contro mokay con kassi ecco qui ecco qui ecco qui io ho ancora il tp ok non la blocca ragazzi eh io non posso ho toppato oh eh ho toppato io one shot ho scoppiato ecco però kai sa giustamente ma cancellato va bene va bene ecco gli ho fatto il blotto attracchi ragazzi eh senza esagerare gg due auto ci sono ci sono ci sono ci sono eh sì buono 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 è qui è di qua non è l'ultimo ottimo rakam bravissimo prendete anche questo oh ho lasciatelo andare bro killalo va bene ma stai intanto fallisemente va non ci sono arrivato no vai pushate la mid va bene allaghi vai fai pushiamo a mid prendiamo la torre oh porcaccio non blocca lo stun di di eh sì vabbè abbiamo maffanculo però ho voluto provarlo va bene va bene andiamo back giochiamo per quest'altra trek a che senso ha vabbè come ti prendo almeno questo posso mettere la jungle vai 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 ma quell'altro trek alla fine abbiamo dreadato per il national voglio dire direi worth quasi quasi sì sì beccate ragazzi un minuto e cinquanta il trek è importante io ci sono ci sono ci sono ma ho un minuto e cinquanta ho tempo di creare la jungle al top io ci sono tu ci sei ma in realtà potevo rimanere per fare per onehittare che cazzo no dai dai facciamo più safe avevo la ulti staccata cioè io non c'ho il tp qui quindi push la top e poi vengo direttamente la onehittavo abbiamo già vincendo mid penso si chiama mid si si pushate pushate mid la wave 2250 devo fare un campo alla zonia sono gigantesco eh ma non so se puoi andare back adesso teco un minuto al trek non puoi ok ok c'era kai qua se lo bastano super fast no 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 ci sono ci sono ho collato subito e ho venduto il next quindi zonia è morto a lui ma hanno usato di tutto forse dovevo usare la ulti verso di qua invece che vabbè vabbè allora cerchiamo dovrei che non so se possiamo contestare sinceramente è un po' hanno la cassa qualcuno deve difendermi togliete la vision adesso potrei provare a voltare qualcuno in loro via e ci possiamo prendere il trek ma prendi a viso eh non è bad come idea se ne hit almeno due loro forse non sanno che cassa non c'è il tp no ho tippato proprio infatti può tpiare però scusami guarda toglia no non è il tp 25 secondi cerchiamo installare cerchiamo non fai dare state attenti a non farvi diretti al trek state attenti a non farvi ingaggiare state 20 diversi qua occhio occhio sono qui sono lì sono lì via via andate via va bene vai 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 fa niente è loro ma sono andati straveloci al laki no eh volevo guardare sapevo che fossero lì però ho gridato it's ok it's ok non fa niente cerchiamo di giocare per il nation allora ragazzi è un solo kai 35 kill dobbiamo ingaggiare su delay pilliamo giù sì sì dovete veramente mezzarla male allora io so flash per ingaggiare su delay dobbiamo aspettare questo dobbiamo installare un minuto e 40 vabbè bisogna aspettare anche che le usi la e perché con eveline puoi venire anche volendo aggancare qui no va bene vabbè riuscite o c'è l'omokai in due poi con eveline sì 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 gli shred la void ce lo facciamo ok mi sono tutti ci serve allora probabilmente ci conviene andare tutti insieme a mettere vision qua a dare vision a cassa in modo che possa spi push adesso arrivo pure io in mid lane vediamo se riesco a trovare anche un buon flank magari qua state pronti nel caso come hanno visto occhio occhio qua aspetta aspetta ok vai prendiamo lo scatto e andiamo a prendere vision usagli la vision usagli tu dico io mette ward vieni ok push intanto prendere lo scatto aspettate aspettate come mid aspettate adesso push la mid vai possiamo andare volendo vai 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 ci sto ci sto buono vediamo qui ecco mi chiede ecco cazzo l'ho lisciato va bene ecco 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 buono perfetto back il nasce il nasce il nasce il nasce indiriggiamo andiamo al nasce ma io volevo tirare dritto prendiamo il blue prendi il blue ecco comunque fa un link sempre su di me qss pulita oh proprio buono così easy arriva wkong se arriva wkong possiamo faiitare ricordate vorremmo finirci in nasce se arrivano troppo deep li faiitiamo però abbiamo lo smite advantage ok ok abbiamo un doppio smile lo speriamo lo speriamo possiamo anche girarsi mettiamo wkong vogliamo resettare resettiamo ok ok duck se vuoi se vuoi red eh lo so però raga mi serve un consiglio shurelia o redemption ehm boh redemption redemption se lo spari bene super gucci si si lo spari dove sta xia forse si si quante quante manca ravadonna su cassa in 900 gold tipo 800 allora questo trick abbiamo faiitato quindi stiamo tutti attenti è meglio stare gruppati in modo non farsi ingaggiare aspettate che arrivi io che sono un muro di carne che non riesco a attraversare perché non dobbiamo lasciare qua kaisa ha usato il flash l'avete notato l'ho usato oppure no no mi sembra di no ok va bene comunque dovremmo cercerlo due minuti per il drake possiamo anche cercare un fight prima vediamo se troviamo un fight qui cusciano in mid guarda sto proprio qui per vedere se si espone qualcuno nauti cusciate in mid con xia io sto arrivando qui aspetta mamma che danni buono bello bro porco demonio prendiamo l'inimitor con cassa che va cusciare però quello non si trova più eval in mindgame capito quindi non sa come giocarci intorno con cassa in cusci super strong come away facciamo dopo questa andiamo in bot a pushare ok ok vabbè vado già allora ok vai prendendo il red se c'è esatto perfetto guardo qua grazie che avete resistito tutti alla tentazione di sbalzarmi dentro io sono a 1.2 dalla la la prossima volta garantisco ok vai back vai back vado troppo bene eh no non c'è il tp ah si ce l'hai ok si si va bene non l'avevo visto bene penso l'avessi usato qui ho la ultima no no adesso aspettiamo ultimo c'è una world c'è una world qui una control qualcosa control una control si si qua possiamo fare un trappolino qua si infatti troppo no possiamo fare il trappolino qui ah niente vado per leech vado per leech non ho un ultimo oggetto sempre se ci arriviamo di leech si lasciamo pushare gassain adesso aspettiamo ma con la leech veramente one shot si vabbè non posso ok lasciamo pushare gassain se provo a fare il drake lo facciamo di impare ho visto qualcuno da destra è impossibile si è impossibile ok cioè non ci sono vuoi di far prendere il nipito non ti impare sui minion ti impare sui minion ti impare sui minion non può farlo sulle world blue metto io attancare sta roba venite venite vediamo vediamo ma allora non mi focus a nessuno ragazzi kaisa 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 è invisibile è qui morta prendiamo il drake chiudiamo il game chiudiamo il game chiudiamo il game chiudiamo il game andiamo 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 vai vai prende vai ormai ce l'ha sai guarda il drake me lo faccio due ore che lo voglio il quarto porco demonio bravo buono buono let's go nice guys nice bravi bravi tutti super clean porca miseria super clean vi giuro ho giocato con team competiti peggiori ma molto peggiori bravi cazzo sto scherzando ragazzi sto scherzando no no l'hai detto l'hai detto no no sto scherzando hai detto nice nice che figata cazzo abbiamo giocato stra bene tutti quanti dal primo all'ultimo bravissimi shot call perfetto di Jacopo madonna so good ragazzi o avete fatto ragazzi queste sono rotazioni avanzate questi i diamond 1 se le sognano nessuno ma stismo apri qua di là insieme mamma mia la vedi seguite benissimo ragazzi so good è rimasto con la schermata riconnetti probabilmente perché ci sono c'è la gente che spetta forse sì sì per quello